Ciao ragazze, nuovo video, ho deciso di farvi il video sui miei rossetti MAC sono arrivata a quota 8 rossetti, quindi ho pensato che un video che può essere utile magari a quelle ragazze che ancora non hanno acquistato il loro primo rossetto MAC o altre ragazze che semmai sono indecise sull'acquisto di un rossetto per il colore e vogliono insomma saperne di più sulla durata, anche se voglio dire MAC è una garanzia ve li ho suddivisi in MAC, Retro MAC e Satin, che sono i rossetti che ho attualmente devo dire che di MAC ne ho 4, ho un Retro MAC 1 e 2 Satin, che devo dire che comunque rispetto ai MAC e ai Retro MAC durano un pochettino in meno e questa cosa mi dispiace tantissimo non tanto Cyber, che è il primo rossetto di MAC che ho acquistato, ma Film Noir Film Noir mi ha deluso un po', infatti se potessi diciamo tornare indietro non lo acquisterei è un bellissimo colore, però non dura tanto e questa cosa diciamo mi dispiace tantissimo bene, allora inizio, questi sono gli swatch fortunatamente i colori, nonostante il tempo merdoso che il sole va e viene sono fedeli e inizio subito col mostrarvi diciamo i miei rossetti MAC allora il primo che vi mostro è Eroin, che è il mio secondo rossetto MAC che ho acquistato ed è questo qui, questo è dallo stick e questo è sbocciato, che è lo stesso colore diciamo che avete diciamo sulle labbra ed è bellissimo Eroin, davvero bellissimo e portabilissimo per me tante ragazze dicono che Eroin diciamo è un colore troppo troppo particolare da portare io invece lo reputo un colore diciamo tranquillo, si è molto particolare perché comunque questo viola carico però non è tipo diciamo un Cyber o un Film Noir che comunque sono abbastanza scuri, abbastanza dark ed è un po' più complicato portarli io per me non faccio differenza, cioè ve lo sapete io esco anche con rossetti molto molto scuri e non me ne può frega di meno però dire che Eroin diciamo non è molto portabile per me è un'esagerazione, vi dico la verità poi vi voglio mostrare Mer che da quest'anno diciamo ha avuto il boom prima questo colore non se lo cagava nessuno, poi di punto in bianco tutti quanti a comprare Mer tutti quanti a comprare Mer ho ceduto anch'io e ho preso Mer ed è un matte ed è questo colore qui vedete anzi no scusate è questo mi avvicino ed è un nude rosato molto molto bello e particolare su di Mer vi posso dire che a seconda delle labbra cambia moltissimo il colore ad alcune ragazze risulta molto più marroncino che rosato come lo vedete sbocciato a me sulle labbra è proprio il colore che vedete sbocciato l'ho visto sul gruppo di MAC come può cambiare questo colore questo è Mer dallo stick e vi assicuro che cambia quindi è un rossetto diciamo che se vi piacciono i nude anche se magari non è rosato come dallo sboccio ma sulle vostre labbra risulta un po' più marroncino vi consiglio diciamo di acquistare ma se ci tenete diciamo ad avere quel colore che deve essere quel colore su di voi vi consiglio di andarlo a provare al negozio e vedere un pochettino come vi sta perché davvero è un rossetto che cambia a seconda delle labbra l'ultimo arrivato nella mia collezione è Velvet Teddy che ho comprato alla MAC Arriccione quando sono andato a fare il weekend a Arriccione ogni volta che vado lì vado a Madame Acca e mi prendo un rossetto ed è questo qui cioè sembra uguale a Mer ma in realtà è un nude molto molto più sul marroncino rispetto a Mer purtroppo la luce come vi dicevo è un po' una merda però penso che si può cogliere la sottile differenza tra i due questo qui è nettamente più sul marroncino Mer è molto più sul malva rosato e anche Velvet Teddy che è un must have di MAC infatti io lo bramavo da tanto quando l'ho trovato al negozio ho detto no vabbè me lo prendo è davvero fantastico mi sono scordata il discorso che vi stavo facendo prima abbiate pazienza comunque raga davvero mi piace un sacco Velvet Teddy e su di me dura un botto cioè mi è durato da luna a pranzo che io l'ho messo sempre quando stavo diciamo in vacanza quel weekend e fino a mezzanotte della sera che sono tornata a casa lo tenevo ancora su e ci avevo manzato ci avevo bevuto ci avevo fatto davvero di tutto e era lì nonostante il fatto cioè è un nude non è che dici sai è un rossetto bello intenso no è un nude lui si secca e resta lì perfetto come lo avete messo cioè è veramente assurdo nessun rossetto MAC eccetto Ruby Woo sì gli altri pure mi durano tanto devo dire la verità però comunque li vado a ritoccare un po' questo mi si è seccato ed è rimosso lì cioè robe assurde poi come ultimo matt ho Diva un altro must have di MAC che ho trovato sul sito perché la maggior parte dei rossetti che mi vedete li ho acquistati sul sito di MAC perché lo store a Salerno non c'è sta a Napoli voi direte ti vai a comprare i rossetti a Riccione e non vai a Napoli non lo so ancora insomma sono andata a Napoli però mi sa che non avevo una lira e non me ne ho potuto comprare quindi forse è molto probabile questo e quando ho il desiderio e mi posso permettere un rossetto MAC me lo ordino dal sito anche se lo devo pagare qualche euro in più questo qui è Diva ed è un matt purtroppo Diva Velvet Teddy DMR è un po' difficile diciamo trovarli sul sito però se vi iscrivete alla newsletter quello poi vi aggiornano quando diciamo c'è il rifornimento dei rossetti o quant'altro Diva è un altro rossetto che io adoro ed è portabilissimo in tutte le occasioni sia da giorno che da sera secondo me da giorno se lo abbinate a un trucco nude magari anche solo il mascara con un soft ocre sulla palpebra e state da Dio tipo come lo fa ho fatto oggi ho messo un soft ocre ho messo soft ocre su tutta la palpebra ho sfumato un marroncino livissimo e il mascara Diva la mattina io lo metterei onestamente e poi come retromatto ho Ruby Woo perché è sempre stato il rossetto di MAC che bramavo di più in assoluto e mi è stato regalato dai miei amici per il mio compleanno infatti vedete c'è questo è rimasto così ed è questo è questo rosso velluto stupendo davvero stupendo e dura tantissimo l'unico rossetto di MAC però che devo dire mi si mi si sgretola un pochettino le labbra me le distrugge perché è molto molto secco dovete idratare tantissimo le labbra perché sennò vi si fa l'effetto pellicine non è bello insomma però è favoloso ragazzi quando avete un'occasione particolare io ve lo consiglio Ruby Woo perché fa davvero la sua porca figura ogni volta che ho su questo rossetto tutti quanti mi chiedono che il rossetto è io mi esalto perché insomma Ruby Woo è Ruby Woo e poi come ultimi due ma non per importanza ho i due Saten ovvero Cyber e Cyber e Film Noir che è l'unico che diciamo mi pento di aver comprato perché comunque non ha una durata diciamo eccellente Cyber anche vi sono sincera però si sa i Saten sono così vabbè ho preso Film Noir vi faccio vedere Film Noir dallo stick vedete è quasi è praticamente nuovo questo qui è Film Noir ed è un marrone con una punta di borgogna all'interno eccolo qua questo è il rossetto stick e sbocciato e vi ripeto non dura come matto e retromatto ovviamente però è un bellissimo colore molto molto particolare anni 90 direi però è carino insomma io poi non sono la tipa da mettermi a vendere i rossetti di MAC perché anche se diciamo li uso poco Cyber lo uso Film Noir non è che lo uso tantissimo però non sono in grado cioè non riesco a vendere i miei rossetti MAC sono zelosissima dei miei prodotti MAC e come ultimo il mio primo acquisto MAC ed è Cyber che ho comprato sempre l'anno scorso alla MAC a Riccione ed è questo stupendo color qui veramente stupendo 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 io lo adoro non lo sto mettendo spesso devo iniziare a metterlo perché mi piace tantissimo l'effetto io non c'è un diciamo un colore che vi sconsiglio io li adoro tutti mi voglio prendere anche come si chiama tengo quello lì viola matte che non mi viene in mente come si chiamava non è stigator quello è un'edizione limitata non mi viene in mente aspettate che forse ce l'ho scritto sull'agenda quello là sarei il mio prossimo acquisto l'ho visto sbocciato in negozio non è niente di che però io non resisto sicuramente me lo vado a prendere smoke and purple questo qui velvet teddy l'ho comprato e mi manca smoke and purple nella mia wish list poi ad agosto usciranno quelli lì nuovi matt che entreranno a far parte della linea permanente quindi ci sono dei colori davvero belli e sicuramente un acquistino ci scappa e niente ragazze questo è quanto questo è il mio video sui miei rossettini mac fatemi sapere voi quale rossetto mac avete quale mi consigliate da avere assolutamente io vi bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze